Ci sarà poi anche quello del percorso del centenario della Grande Guerra, eh? Sì, qui c'è una bella novità da raccontare perché abbiamo messo in cantiere una gara molto importante che si chiama Grand Ride delle Prealpie Trevigiane, praticamente è una corsa che si sviluppa su tutto l'arco prealpino a partire da Segusino e con arrivo a Sella di Fadalto, anzi a Basso Fadalto, il Laghetti Blu quindi 72 chilometri con 4.500 metri di dislivello positivo e verrà fatta il 24 di maggio è giunta la terza edizione perché si è svolta l'edizione 2008, l'edizione 2009 poi per mancanza di soldi, di finanziamenti e soprattutto per mancanza di volontà da parte di un gruppo di organizzazioni che si era un po' lasciato ora è rinato il gruppo, il gruppo Prealpi Venete a cui io faccio parte, di cui faccio parte e stiamo portando avanti appunto questo progetto ci saranno le prossime edizioni, quindi quest'anno, il prossimo e il 2017 mentre il 2018 abbiamo in mente di aggiungere anche il Monte Grappa una corsa da fuori con la testa, da quasi 130 chilometri che abbraccia quindi tutto il compressorio del Grappa e tutte le prealpi trevigiane per ricordare la grande guerra si uniranno gli alpini perché, notizia proprio fresca, si sono aggiunti gli alpini grazie all'interessamento del Presidente nazionale che è di Possagno tra l'altro e ci ha dato appoggio con qualche centinaio di alpini a seguito che è Favero, 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 Sebastiano Favero io poi tra l'altro sono alpino e mi fa molto piacere quindi diventa una cosa molto importante ricordiamocelo a tutti però magari ne parleremo in un'altra occasione io ti aspetto qui quando vuoi, quando decidi di salire tornerò più preparato perché qui mi hanno incastrato questa mattina dunque mando un saluto a tutti, alla Donatella, a tutto lo staff di Radio Belluno che sono sempre dei grandi amici e anche di Tele Belluno e un saluto a tutti i radioascoltatori allora alla prossima Giovanni, stammi bene per noi un po' di pubblicità e poi nuovamente con la musica e gli ultimi minuti grazie